Un avviso rivolto ai giovani, il target è 18-25 anni, rivolto ai MIT, coloro che non lavorano e non studiano, coloro che è difficile intercettare. Quindi lo scopo di questo avviso è di avvicinare i ragazzi tramite lo sport e permettere quindi un'inclusione sociale, una vita di squadra, una capacità di rimotivarli, perché il problema del MIT non è l'essere disoccupato o non avere un diploma, ma è proprio quello di non trovare una motivazione. Quindi lo sport è l'opportunità per avvicinare questi ragazzi. Vogliamo fare attraverso lo sport l'introduzione poi al mondo formativo e al tirocinio. I ragazzi avranno per sei mesi credo 450 euro e possono sperimentare una sorta di campus nel quale avvicinarsi al mondo del lavoro. È una sperimentazione, lo abbiamo fatto con poche risorse e poco numero dei ragazzi per vedere se funziona, eventualmente rimpinguabile e rimodificabile. Grazie. Grazie.